Musica Allora Claudia, adesso voglio la tua attenzione Lavoriamo ancora di più su destra e sinistra lateralizzazione lancio della palla con le mani, con i piedi ci proviamo, non ti preoccupare la palla rotola e la palla non si rompe quindi si può provare all'infinito alza il braccio, destro, alza, sinistra ora ti tiro la palla, con due mani ritiri la palla nella cesta afferra la palla e la tiri nella cesta io la lascio perdere ancora una palla, vai Claudia ok, oh scusa qui ho sbagliato io, ripeti vai, bravissima ok, adesso prova dall'alto a tirare la palla nel cesto brava, ancora Claudia perfetto sei pronta a fare più difficile? prendi la palla e con la tua mano destra la tiri nel cerchio nel cesto ancora destra brava proviamo con la sinistra quindi fiore giallo sinistra fiore giallo ok, cerco di complicarti la vita fiore giallo fiore giallo sinistra sinistra fiore arancione riprendi la palla riprendi la palla non ti preoccupare ritorno in postazione fiore arancione e abbiamo detto che il fiore arancione è destra destra vai sinistra 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 e ancora destra sinistra scegli tu l'ultimo ma devi fare canestro sinistra brava Claudia ora Claudia ci mettiamo di spalle ok e ricordami bene lo devi dire tu fiore arancione è la tua destra e quello che cos'è? sinistra sinistra alzami il braccio sinistro perfetto e il fiore giallo è la tua destra perfetto alzami il braccio destro ok ma ora ti passo la palla sotto e tu la afferri e dammela sopra e prendila a destra e dammela a sinistra la riprendi a sinistra e me la dai a destra alzo le braccio prendi la palla brava sotto perfetto Claudia fiore arancione la tua sinistra fiore giallo la tua destra sotto e sopra e ancora sotto e sopra destra 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 in alto sotto sotto sinistra destra in alto sotto sinistra sei stata bravissima ok tirami la palla ora semiamo pronti abbiamo fatto un po' di manualità con la palla e cominciamo il nostro percorso come una ranocchietta saltami nei cerchi appoggia bene le mani vai su e salta non aver fretta impara a spingere bene con le gambe e ti fermi e ti fermi su in piedi ok fai prova a fare un salto e a venire a guardare me girati brava di nuovo ranocchia giù vai con la ranocchia giù ancora con la ranocchia giù ancora con la ranocchia ok sali in piedi metto in giro Claudia ok ti faccio recuperare ora mi metti le mani nel cerchio giallo e lasci i piedi nel cerchio blu nel verde piega le gambe entra con un salto nel cerchio giallo con le gambe ok mani nel cerchio blu mani piedi mani nel cerchio blu e rosso piedi e ancora mani piedi non so se ce la fai ma io penso di sì torna dietro con i piedi spingi brava ottimo piega le gambe piega le gambe ancora uno bravissima entra nel cerchio e vieni su riposati un attimo guardami prova a saltare lateralmente entrando nel cerchio giallo prima un piede e poi l'altro con calma prima un piede e poi l'altro ancora vai brava Claudia ritorna prima un piede e poi l'altro prima un piede e poi l'altro ottimo Claudia proviamoci se possiamo fare il salto con tutte e due le gambe jump brava jump laterale puoi anche aprire di più le gambe se vuoi e torna stabilità controllo ottimo esci fuori dal cerchio verde brava ora nel cerchio vai con tutte e due le gambe unite e fuori dal cerchio gambe divaricate apri in out dentro fuori chiudi apri fermali proviamo ad andare indietro apri fermati chiudi apri chiudi apri chiudi fuori dentro ottimo lavoro Claudia ciao ciao